Ciao a tutti, mi chiamo Moreno Bargis e sono un ex allievo del liceo artistico di Asti. Mi sono diplomato nel 2019 nell'indirizzo di audiovisivo multimediale. Come potete vedere adesso sto seguendo il mio più grande sogno fin da quando ero piccolo, che è quello del volo. Sto frequentando una scuola che mi permetterà di diventare pilota di linea. Mi è stato chiesto di condividere con voi quella che è stata la mia esperienza al liceo artistico. E devo dire che oltre ad aver trovato una scuola che mi ha formato intellettualmente, affrontando materie dalla filosofia all'arte alla letteratura, nel mio caso all'audiovisivo multimediale, ho trovato anche una seconda famiglia. Perché la bellezza del liceo artistico è incontrare persone totalmente diverse tra loro, avere l'opportunità di confrontare le proprie idee, e soprattutto in un momento difficile come può essere quello dell'adolescenza, per me è stata l'opportunità di crescere come persona e come uomo. Ci tengo anche a sottolineare che fare un liceo artistico non ti delimita la strada. Come potete vedere io sto diventando pilota avendo fatto il liceo artistico, che sono due cose totalmente diverse. Però secondo me il volo è una forma d'arte, quindi si trova la propria strada facendo qualsiasi percorso. e quindi non posso che consigliarvi questa scuola e sono sicuro che troverete tutti la vostra strada. Un caro saluto e buona fortuna!